Riordinare, riesaminare, ridurre ma semplificare al massimo i permessi per le zone a traffico limitato e per i disabili. L'amministrazione comunale di Teramo promette un giro di vite in un settore caotico che in questi ultimi anni è stato piuttosto trascurato. I tagliandi infatti esposti dalle vetture in transito sono datati e mai rinnovati. La situazione odierna è questa. Gli attuali permessi per le ZTL in città sono complessivamente 6.500, mentre sono 924 quelli rilasciati ai portatori di handicap. Su questi ultimi in particolare si concentrerà l'attenzione del sindaco d'Alberto e dell'assessore al traffico Maurizio Verna. I permessi andranno tutti riesaminati per verificare se esistano le condizioni di disabilità iniziali e solo dopo riconfermati. Non solo i disabili, ma anche tutte le altre autorizzazioni dovranno essere rinnovate. Ma come? Ancora file e assembramenti fuori degli uffici comunali? Fogli da compilare e attese di mesi? La buona notizia è che tutto sarà facilitato dal web e realizzabile in tempi record. L'amministrazione vuole inaugurare una rivoluzione in questo settore e ricorda i cittadini che hanno i requisiti per richiedere i permessi di accesso alle ZTL, cioè i residenti, dimoranti, i commercianti, i liberi professionisti che hanno in queste zone il proprio studio, di collegarsi al sito del comune e in pochi clic ottenere l'autorizzazione in qualche ora. Per chi non ha la possibilità di utilizzare la rete potrà recarsi agli sportelli dell'URP. Per quanto riguarda i disabili, l'assessore Verna ha anche annunciato che saranno realizzati dei nuovi parcheggi a loro dedicati in centro storico. Dovrebbero essere otto e si dovrebbero concentrare tra Piazza Martiri e Piazza Orsini. La volontà di ridurre le autorizzazioni al traffico in centro sembra però farsi strada. Per un comune piccolo come Teramo 6.500 permessi sono davvero troppi e l'amministrazione sembra intenzionata a voler limitare questi privilegi.